non c'è più Angelo Colombo tra le maglie del Milan giocatore sempre molto giusto torna ancora in possesso di palla un altro traversone la palla dentro stacca Stewart riesce l'impatto con la sfera il corner calciato da Waddle sul secondo il colpo di testa poi lo stesso ha messo ancora in corner al pallone molta forza e rivediamo il traversone il colpo di testa e lascia correre l'arbitro il dribbling poi di Stewart sulla destra ha saltato Netto Evani ancora Stewart si porta al limite dell'aria interviene bene Bianchi poi c'è il lato poi il lungo rilancio di Mabut sulla sinistra Stewart palla dentro poi ancora Thomas il traversone il controllo con il braccio in maniera evidente riesce a servire il giocatore che è entrato da poco ma poi c'è il contrasto aereo tra Evani e Stewart seguiamo il trato del campo arrivano gli applausi del londinese questo è il dribbling di Stewart ai danni di Evani il traversone